oggi andiamo a fare una zuppa particolare fatta con la zucca e le arance perché dico particolare perché in realtà si può mangiare quindi calda come zuppa ma anche ottima buonissima come bevanda fredda cominciamo prima cosa metto un pochino d'olio in una casseruola un paio di cucchiai sono più che sufficienti accendo il fuoco e vado a tritare uno scalogno in modo piuttosto grossolano e lo metto nella casseruola poi vado a preparare i cipollotti 4 5 cipollotti piccolini vado a togliere la pellicina esterna e vado a dare una tritata grossolana e le metto nella casseruola tenete il fuoco basso perché lo scalogno si brucia molto facilmente nel frattempo vado a preparare lo zenzero e lo metto nella casseruola ora vado a preparare la zucca la tagliare la zucca va tagliata a pezzettini abbastanza piccoli ma perché questo ci permetterà di avere una cottura molto più veloce quindi una volta che l'abbiamo tagliata la mettiamo nella casseruola e facciamo insaporire il tutto per un paio di minuti do una leggera salatina e ora copro con l'acqua copro parzialmente quindi lascio uno spiraglio per far uscire meglio il vapore e rialzo leggermente il fuoco ma sempre a fiamma medio bassa ora si porta a cottura la zucca la zucca tagliata a dadini di queste dimensioni in 20 25 minuti al massimo sarà cotta la zucca è praticamente cotta perché è morbidissima ora vado a spremere un'arancia ora vado a frullare non portatevi dietro troppo liquido casomai lo aggiungete successivamente aggiungo il succo dell'arancia e vado a frullare assaggio per sentire se la quantità di sale è corretta no sale ne manca anche perché questa arancia era particolarmente dolce aggiungo un po' di sale e vado ad aggiungere anche un bel pizzico di pepe bianco vedete quanto è venuta densa? se volete e io in questo caso lo farò aggiungete un pochino di liquido per averla leggermente più morbida ma naturalmente queste sono cose che decidete voi lì per lì eh andiamo a servire facciamo una cosa un po' kitsch ma giusto per ricordare che è una zuppa fatta con con le arance la verità la verità in realtà l'ho detta finora la verità la chiamo zuppa ma potrebbe essere anche una bevanda qualcosa da bere così a come piace a me questa qui deve diventare fredda gelata anzi anche con qualche cubetto di ghiaccio ed è una cosa meravigliosamente buona un appetito 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 un appetito